Ciao, sono Francesco di Chosdaples, sono le 10.36 e è appena avvenuto il miracolo di San Gennaro, il miracolo laico del 16 dicembre 2023. Ripercorriamo un po' la storia di questo miracolo. Nel 1527 ci fu un vero e proprio patto tra San Gennaro e la deputazione di Napoli. La deputazione si impegnava a costruire la cappella di San Gennaro, mentre San Gennaro si doveva impegnare a proteggere la città da tutti i mali. Beh, 100 anni dopo la cappella non era ancora costruita e nel 1631 ci fu un'eruzione, l'eruzione del Vesuvio, che secondo le testimonianze arrivò, le nubi di cenere arrivarono addirittura a Costantinopoli, che è l'attuale Istanbul, e quindi comunque si chiedeva la grazia a San Gennaro per far cessare le continue eruzioni. Il busto di San Gennaro venne portato all'attuale ponte della Maddalena, proprio per vedere il Vesuvio, e secondo le testimonianze, nel momento in cui il busto di San Gennaro guardò il Vesuvio, beh, da lì smisero tutte le eruzioni. Quindi ogni anno viene celebrato questo miracolo laico del 16 dicembre, in poche occasioni non si è compiuto, l'ultima è recente, quella là del Covid, dove a dicembre non si è compiuto il miracolo, e tre mesi dopo poi è iniziata la pandemia che tutti oggi conosciamo. Beh, quest'anno si è compiuto alle 10.36 del 16 dicembre 2023, è avvenuto il miracolo laico di San Gennaro.